Ciao a tutti, oggi vi do il benvenuto nel quarto episodio di Elettricista fai da te. Oggi parliamo del pulsante. Con lo schemino è un po' più complesso rispetto all'altro, ma è giusto per comprendere meglio. Quindi mettiamo pulsante. Lo dice la parola stessa, pulsante. È sempre un dispositivo elettrico che funziona tramite un impulso. Mentre l'interruttore rimane nello stato in cui viene azionato, il pulsante ritorna sempre a zero. Allora, eccolo qui, vedete? Io anche se lo schiaccio, lui ritorna sempre a zero. Per poter funzionare, il pulsante ha bisogno di un relè. Non stiamo qua a parlare che ci sono tante tipologie, parliamo della più semplice di tutte. Abbiamo sempre la nostra fase e il nostro neutro. E ci mettiamo sempre la nostra bellissima, o con il verde, la nostra bellissima lampadina. Come funziona? Allora, noi, per forza, il nostro pulsante, eccolo qui, come per l'interruttore, lui blocca. Come detto, ci vuole un relè. Per funzionare, il relè lo disegniamo qui, molto semplicemente. Eccolo qui, il nostro relè, molto stilizzato, con i suoi quattro morsetti. Perché all'interno c'è la bobina e in più il contatto che sarà azionato meccanicamente per far passare la tensione del relè una volta eccitata la bobina. Come funziona? Molto semplicemente, una volta data la tensione, arriviamo sempre fino a monte. Andiamo nel nostro pulsante e questo pulsante sarà collegato alla bobina, definita A1 e A2, quella negativa per il neutro. Poi dovremmo avere un altro filo diretto dove ci sarà sempre tensione, in questo lato, che sarà poi da qui che passerà la tensione per accendere la lampadina. Nel lato opposto, facciamolo così, andremo alla lampadina e, con il nostro bel neutro, andremo a dare i zero volt alla bobina. Ok, cosa succede? Allora, avendo tensione fino a questo punto e avendo tensione in questo lato, noi, dando questo impulso, perché si tratta di un impulso, perché va A1, momentaneamente appena lo rilasciamo torna a zero. La tensione passa, 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 finché va la bobina. Questa bobina, avendo il circuito chiuso con il neutro, si ecciterà. All'interno c'è un piccolo meccanismo dentato che, scusate, farà cambiare di stato questo piccolo interruttore al suo interno. Quindi, eccitata, si eccita, questo si chiude, diventa quindi un contatto chiuso. Qui abbiamo la fase, che è sempre presente, passerà da qui e accenderà la nostra lampadina. Per spegnerla, basterà fare l'opposto. Gli si dà un altro impulso, questo relè si ecciterà e, facendo scattare questa rotina dentata, aprirà il contatto, che è il classico relè passo passo, che ogni volta che viene azionato cambia di stato. Gli si dà un impulso, va A1, un altro impulso, va A0. Ecco, noi oggi vediamo come sostituire il pulsante. Con relè, quello lo faremo più avanti. Ok, ciao a tutti, grazie mille e sigla! Allora, come detto, prima di effetturare ogni operazione, mi raccomando, se avete la possibilità come me di avere il contattore in casa, fate questa operazione. Ok, così è spento. Tutto quello che è collegato sotto non funzionerà più. Se non avete questa possibilità e avete un quadro elettrico, apritelo e prendete e tirate giù. Tutti, tutti, tutti gli interruttori che vedete, qualsiasi, tutti, ognuno. Questi sono relè, quindi niente. Eccoci qua. Dopo questa operazione, metteteci le mani tranquillissimamente. Mi raccomando, sempre attenzione. Ciao a tutti! Eccoci qua. Allora, qui vediamo che è una camera da letto. In questo caso abbiamo il primo che è un deviatore e il secondo che è un pulsante per la luce del corridoio. Vediamo come cambiare il pulsante. la placchetta. Vediamo la placchetta. Vediamo la placchetta. Andiamo a smontare e vediamo cosa c'è. eccoci qua. Come dicevamo, il nostro bel pulsante abbiamo sul morsetto la fase e sull'altra il ritorno che andrà il relè. Allora, allentiamo le viti. Una e una due. Un attimo, avete fatto la foto? Qua è difficile sbagliare. Ma non si sa mai che si prende anche un errore, lo si mette con il grigio, poi diventa un casino perché non funziona più. In questo caso cosa succederà mettendo una fase con il grigio, visto che ne abbiamo due? Che il relè rimarrà sempre citato. Voi non ve ne accorgerete fino a quando non si brucerà la bobina perché sono nati per avere un impulso. Tic tac, tic tac. Tiriamo fuori i fili. Li risistemiamo per dopo. Stesso procedimento. Cacciavite. Lateralmente. Si fa un po' di leva, prima da una parte, poi dall'altra. Sempre piano perché se gli date un colpo secco rompete l'aletta e dopodiché non ha più tenuta. Eccolo qui il nostro pulsantino. E come tutto, qui c'è scritto, dov'è? Non si vede molto bene. L e 1. Ok. Andiamo a prendere quello nuovo. Eccoci qua. Pulsantino nuovo. Lo inseriamo finché sentiamo il click. Ok. E ricolleghiamo i fili. Se avete fatto la foto ve lo ricordate. C'erano i due neri. Uno e una due. Nel lato destro. E nel sinistro, scusate, il ritorno al pulsantino. Lo mettiamo anche quello, visto che è da solo, sempre a destra. Ricordatevi di stirare sempre tutte le viti prima di chiudere. Ok. Ci siamo. Questa va chiusa in questo senso, perché il primo, pulsante, interruttore, deviatore, va sempre messo nel lato dove si entra nella porta. Accomodiamo i fili dentro e seriamo tutto. Ok. Placchettina. Se avete queste, guardate che il nome sia corretto. La sensibilisce. Pugnito di qua. Di qua. Controlliamo. Ok. Ok. Ottimo. E ricordatevi adesso, tirate su la corrente tramite il contattore e fate una bella verifica che funzioni tutto. Grazie mille.